l'intramontabile bellezza di ornella muti ripresa da sua figlia nike ribelli la figlia le domanda mamma ma che ne pensi del body shaming e lei risponde ma che me ne frega a me io questa sono piaccio a chi mi vuole così brava mamma dice questo l'atteggiamento non si può piacere a tutti l'importante è piacere a se stessi ma al di là di quello che dice sua figlia questa donna la tenera età di 67 anni è veramente uno schianto a a a a a a